Buonasera a tutte e a tutti le persone d'ascolto, benvenute e benvenute a questo webinar. Io sono Michela Colasanti, sarò la vostra moderatrice e come potete vedere a mio fianco abbiamo il dottor Luca Gianaroli che è il nostro esperto di oggi. Salve dottore, grazie. Buonasera. Buonasera, buonasera. Dunque una piccola introduzione prima di lasciare la parola al dottore su questa tematica molto interessante e attuale quindi volevo solo ricordarvi che questo video lo stiamo registrando quindi a partire da domani lo potete vedere sui nostri canali, più tardi vi spiegherò quali sono in ogni caso qui in basso nella chat potete trovare un piccolo riassunto del tema di oggi che come sapete è Covid-19, PMA e gravidanza in basso il link che vi porta direttamente alla pagina che noi abbiamo realizzato sulla biografia del dottor Gianaroli e in seguito anche il link dal quale potrete rivedere l'evento e come ultimo link è quello dove potete vedere quali saranno i nostri prossimi eventi. Quindi questo webinar, permettetemi 5 secondi di presentazione, questo webinar è organizzato dalla European Fertility Society e vi spiego brevemente di cosa si occupa. È una società empirica che fornisce strumenti, supporto ed educazione ai pazienti alle cliniche per la fertilità educa, sostiene e aiuta i pazienti con problemi di infertilità a rendere il loro viaggio più amichevole e fondato sull'assistenza e allo stesso tempo sostiene anche le cliniche per la fecondazione assistita attraverso l'istruzione e la formazione del suo personale sanitario e di supporto ai pazienti, stabilendo orientamenti per l'assistenza ai pazienti, raccomandazioni e certificazione dei loro processi. Come anticipato prima, abbiamo come esperto il dottor Luca Gianaroli, specialista in ginecologia e ostetricia e direttore scientifico di SISMER. Il dottor Luca Gianaroli è cultore della medicina della riproduzione dalla fine degli anni 70. Attualmente è direttore scientifico della Società Italiana di Studi di Medicina della Riproduzione e anche direttore scientifico dell'Istituto Internazionale di Medicina di Riproduzione con sede a Lugano. Nella pagina che vi ho lasciato potete trovare la biografia molto più specifica di tutta l'esperienza del dottor Luca Gianaroli. E' una breve introduzione a SISMER, che è un centro clinico privato che opera nei campi dell'infertilità, della procreazione medicalmente assistita e della genetica umana dal 1994. I responsabili della clinica e dei laboratori operano nel settore della medicina e della biologia della riproduzione da oltre 30 anni. E oltre a tutti i trattamenti di PMA di primo, secondo e terzo ruolo, sia omologhi che condonazione di gameti, SISMER può avvantare un programma di diagnosi genetica preimpianto all'avanguardia per la diagnosi di malattie monogeniche, traslocazioni e anomalie cromosomiche. La sede centrale si trova nel centro di Bologna, mentre numerosi centri satellite sono dislocati. Anche rispetto a SISMER potete trovare una biografia molto più ampia nella nostra pagina web e vi ricordo che potete realizzare e scrivere tutte le vostre domande qui in basso, mentre il dottore realizza la sua presentazione. E al termine della presentazione lanceremo le domande sullo schermo e il dottore risponderà. Per cui io ho terminato la mia presentazione e lascio la parola al nostro esperto, al dottor Giannaroli. Ci vediamo dopo, grazie. Buonasera, l'idea di questo seminario nasce dalla esigenza di colmare a volte alcuni punti di conoscenza nell'ambito di un problema così attuale, così importante come il Covid e notizie che molto spesso purtroppo non sono corrette e che compaiono sui giornali o sui siti o sui social. Io spero che alla fine di questo incontro molti dubbi siano chiariti. Se così non sarà, sono sempre disponibile per chiarire tutto quello che in qualche maniera serve per rendere più tranquilli e più sicuri i nostri pazienti. Allora, due parole sull'impatto della pandemia sulle nascite. Chi ritiene che la pandemia non abbia colpito i nati o le nascite nel nostro paese evidentemente non conosce i dati e non sa quello di cui si parla. Qui voi vedete in blu dal 2011 le nascite in Italia, quindi concepimenti sia naturali che assistiti. Si passa da 520.000 bambini individui che sono nati nel 2011 a quasi 400.000 qualcosa dei bambini nati nel 2020. Purtroppo vedete invece in nero i decessi, quindi voi vedete molto chiaramente come il gap che c'è tra nascite e individui che non ci sono più nel nostro paese è drammaticamente aumentato e purtroppo continua ad aumentare. I dati del 2021 sono tutt'altro che incoraggianti da questo punto di vista. Quindi c'è una tenatalità sorprendentemente aumentata purtroppo anche dall'evento pandemico. Tanto per darvi un'idea, questi sono studi scientifici conosciuti perché sono pubblicati su riviste internazionali. Se noi prendiamo alcuni esempi, una città come Milano per esempio, vedete nel novembre del 2019 fino al gennaio del 2020, in blu, quindi praticamente nello stesso periodo, vedete che in una città come Milano sono nati il 12% in meno di individui e addirittura in una città come Torino il 33% in meno. Quindi questi sono i dati pre e post pandemia, tanto per intenderci. Qui vedete sempre il numero di individui nati in Italia, sempre diviso per anni, dal 2010 fino al 2019 e vedete come questi numeri, già li avevo fatti vedere prima, hanno in cima una percentuale che rappresenta la percentuale dei nati da concepimenti assistiti. Quindi, attenzione, il contributo dei programmi di concepimento assistito gioca, per esempio nel 2019, pre-pandemia o a cavallo dell'inizio della pandemia, gioca il 3%, il che vuol dire che un individuo su 30 nel 2019 che è nato, è nato grazie alle tecniche di concepimento assistito. Ma non sono tanto i numeri dei programmi di concepimento assistito che sono aumentati, ma, purtroppo, il calo delle nascite naturali per cui i trattamenti che sono stati eseguiti assumono una proporzione più importante di quello che erano 10 o 12 anni fa. Qual è l'impatto della pandemia sulla procurazione medicalmente assistita? In generale è stato un impatto devastante. Qui vedete, da dei dati raccolti da alcune associazioni scientifiche, come praticamente in tutto il mondo i centri sono stati chiusi per un certo periodo, i centri sono in azzurro, i centri in verde, praticamente soltanto in alcuni paesi, non ci sono stati restrizioni, minimo, e invece quei pochi paesi che sono in giallo ci sono state filosofie di apertura o di chiusura diversa a seconda che i centri fossero pubblici o privati. Però, in generale, come vedete, in tutto il mondo ci sono state delle chiusure anche per alcuni mesi. Se noi guardiamo la cartina europea, questi sono dati alla nostra società scientifica, vedete che nel 2020 l'Italia fu il primo paese a chiudere i centri di procurazione assistita, seguito poi dalla Francia, e un pochino alla volta nel giro, praticamente, di 5-6 settimane, praticamente tutta l'Europa era in chiusura, così come quando si è deciso di riapirli, dal primo di maggio, come vedete, alcuni paesi avevano riaperto, l'Italia è stata tra quelli che, più colpita dalla pandemia, ha dovuto aspettare ancora una quindicina di giorni, fino a tornare praticamente alla normalità dopo tre mesi, quindi tutto marzo, tutto aprile, tutto maggio, quasi tutto maggio, in realtà, purtroppo, i programmi di concepimento assistito hanno lavorato a scartamento ridotto, addirittura senza possibilità di lavorare. Tanto è vero che, se noi guardiamo di quanto si sono ridotti i cicli di concepimento assistito tra gennaio e aprile, tra il 2019 e il 2020, vedete che, per quello che riguarda i trattamenti di secondo e terzo livello, si è perso un terzo dei trattamenti, così come le tecniche a fresco e i cicli da embrioni congelati. Si è addirittura arrivati a ridurre quasi la metà i cicli da congelamento di ovociti e ancora si è perso un 40% di cicli in cui venivano donati i gameti. Queste sono le proporzioni del calo che ci sono stati tra il gennaio e l'aprile del 2019 e il gennaio e l'aprile del 2020. Quindi c'è stato un forte impatto. Questo è dovuto anche al fatto che si è dovuto assolutamente garantire la sicurezza, non solo dei pazienti, ma anche degli operatori, perché allora, come oggi, operatori positivi, se non addirittura malati, sono operatori che hanno praticamente una impossibilità di lavorare e quindi di aiutare le coppie ad avere quello che cercano. Quindi, praticamente, si sono disegnati tre scenari, quelli nei quali era possibile trattare pazienti, quelli nei quali invece i pazienti devono essere trattati però facendo alcuni test, e quelli in cui non era possibile trattare pazienti perché uno o due sintomatici o positivi o addirittura sintomatici. Quindi, praticamente, abbiamo dovuto cambiare i consensi informati, creare un sistema di triage per monitorizzare eventuali sintomi, non solo nei pazienti, ma anche negli operatori, sistematicamente testare i pazienti, garantire ai pazienti l'accesso all'informazione e ai trattamenti, adattare i servizi di PMA, quindi evitare che ci fossero assembramenti, evitare che ci fossero pazienti e partner dei pazienti che attendevano l'universale d'attesa, pianificare questi trattamenti in maniera tale che potessero, diciamo così, correre in maniera fluida e soprattutto abbiamo messo a punto un codice di condotta, quindi quasi un codice etico, per i pazienti e gli operatori, soprattutto quando sia pazienti che operatori non erano all'interno delle cliniche. Cioè, è inutile avere servizi di attenzione, di prevenzione, di riparo all'interno della clinica e poi alla sera andare in dieci a mangiare in un ristorante senza avere gli strumenti di protezione. Quindi, gli operatori si sono adeguati a questo sistema, diciamo così, a questo stile di vita e nello stesso tempo è stato chiesto in molti centri, compresi i nostri, che anche i pazienti si comportassero nella stessa maniera. Perché è questo? Perché il Covid che piacciono ha purtroppo un impatto sulla fertilità. Vediamo di che cosa si tratta. Innanzitutto, partiamo da un concetto più importante che venga riconosciuto, che perché si sviluppi l'infezione bisogna che ci siano due recettori, qui vado un po' sul tecnico, che devono essere presenti. Quindi, quali sono i tessuti e le cellule che esprimono simultaneamente questi due recettori? Uno dal nome più semplice, che sicuramente conoscete, che è l'AC2, e l'altro che è il TMPRSS2. Beh, diciamo che quasi tutti gli organi degli apparati genitali possono esprimere questi due recettori, quindi possono in realtà avere infezioni di Covid anche a livello di alcuni organi. Tanto è vero che in assoluto i dati che abbiamo, dalla letteratura, ormai da questa triste storia che dura due anni, è che gli uomini sono maggiormente a rischio di sviluppare il Covid rispetto alle donne. C'è un ampio studio su un campione di più di 20.000 pazienti Covid, dove è stato osservato che il 60% appunto erano uomini, e quindi il fattore di rischio potenziale per l'uomo è più elevato. Non sappiamo ancora esattamente perché. Che gli uomini hanno un rischio maggiore di sviluppare complicanze o casi severi di Covid rispetto alle donne. che il numero di spermatozoi e la loro motilità si riduce significativamente nei pazienti appena guariti da Covid-19. Quindi poi ci vogliono settimane e settimane perché i valori del liquido seminale tornino a quelli della pre-infezione. E come se non bastasse, ci sono delle anomalie del DNA spermatico che sono state riscontrate in pazienti che sono affetti da Covid-19. Quindi diciamo che sulla fertilità maschile il Covid gioca un ruolo destruente, importante. Se noi andiamo a vedere, tanto per darvi un'idea, la percentuale di pazienti che avevano una ridotta motilità un mese prima dell'infezione, questo è un campione in cui il 60% aveva questo problema, e a distanza di uno o due mesi dall'infezione questo 60% si riduceva un 37% e ancora a distanza di più di due mesi dall'infezione a un 28%. Quindi questo per dire che evidentemente la patologia che inizia riduce la motilità in maniera consistente. Man mano si si allontana dalla patologia questo calo diminuisce. E questo vale anche per la conta degli spermatozoi. Come voi vedete, uomini a cavallo dell'infezione o qualche settimana prima che l'infezione venisse rilevata avevano questo percentuale ridotto di numero che calava man mano che ci si allontanava dall'infezione. Quindi dobbiamo essere consapevoli che chi cerca figli e in qualche maniera bisogna che sappia che il Covid-19 può influire sulla qualità del liquido seminale. Il tempo stimato di ritorno ai parametri pre-infezione è di circa tre mesi. E oltretutto noi non abbiamo ancora un quadro completo, abbiamo bisogno di ulteriori studi per verificare quali sono poi i danni a lungo termine di soggetti che hanno preso il Covid-19. Parlo di soggetti di sesso maschile. Qual è l'impatto del Covid sull'endometrio? Beh, anche qui c'è perché è vero che questi due famosi marcatori si esprimono poco sull'utero e sull'endometrio, però teniamo presente che pare che l'espressione genica virale aumenti con l'età. Quindi praticamente l'endometrio di donne di età più avanzata che si sottopongono a PMA è a maggior rischio di infezione virale. Quindi c'è questo collegamento tra età ed infezione virale a livello dell'endometrio. Nelle cellule uovo cosa succede? Ma nelle cellule uovo fondamentalmente succede questo. Questo è uno studio non grande, però se sono in due pazienti positive senza sintomi nel momento del periodo degli ovociti, si è visto che l'RNA virale di uno dei geni non è stato trovato in nessuno degli ovociti analizzati. Gli ovociti pare che non abbiano quei fattori che facilitano l'ingresso del SARS-CoV-2 nella cellula. Quindi diciamo che la cellula uovo non è intaccata dall'infezione. Quindi sembra quasi che le cellule uovo siano protette dall'infezione. La trasmissione verticale il che vuol dire da madre a feto potrebbe non verificarsi quindi attraverso la cellula uovo ma attraverso altre strumenti, altre vie quali per esempio la placenta. Non c'è rischio per la manipolazione degli ovociti in laboratorio per gli operatori. È chiaro che i numeri sono relativamente modesti per poter dire che questa è la verità truta. Sugli embrioni abbiamo invece un quadro un po' diverso. Cioè gli embrioni sembrano esprimere i geni l'ACE2 e l'altro dal giorno 6 in avanti quindi dalla strada di brastocisti in poi. È molto improbabile che gli embrioni sviluppati in vitro nell'ambito di un trattamento di PMA siano suscettibili all'infezione però teniamo presente che gli embrioni dopo che si impiantano potrebbero essere suscettibili all'infezione. Ovviamente i dati che noi abbiamo sono sono generati dal fatto che si è rilevato appunto l'RNA dovremmo validare questi dati per vedere se questo RNA produce le proteine quindi in realtà è un marcatore efficace però diciamo che fondamentalmente prima dell'impianto non ci sono rischi dopo l'impianto se la paziente è mala sì ci possono essere per gli embrioni. Ancora un aspetto da vedere che riguarda il covid e la gravidanza. Le domande più frequenti sono di solito queste è pericoloso contro il covid in gravidanza? E le risposte sono contro il covid in gravidanza è molto pericoloso soprattutto nell'ultimo trimestre poi vedremo perché c'è un maggior rischio di sviluppare forme più gravi della malattia se la gravida è mala che vuol dire un maggior rischio di ricovero anche in terapia intensiva purtroppo e c'è un elevato rischio di gravidanza ostetica quindi legata alla gravidanza. Se arriva il covid in gravidanza quali rischi ci sono per la madre? Purtroppo e questo è qualcosa che non viene mai detto in maniera chiara il rischio di mortalità è 22 volte maggiore rispetto alle donne che l'infezione non l'hanno contratta. C'è un maggior rischio di sviluppare gravi patologie della gravidanza quali ad esempio la cosiddetta eclampsia o preeclampsia o la pressione molto elevata. C'è quindi di conseguenza un maggior rischio di ricovero e c'è una maggiore incidenza di parti pretermine e di tagli cesarei perché? Perché si rischia altrimenti lasciando l'evento naturale di alterare il benessere materno o quello fetale. Per il feto quali sono i rischi? Ma diciamo che i rischi più gravi sono quelli di complicanze neonatali che possono richiedere il ricovero in terapia intensiva neonatale per diversi giorni e poi c'è la possibilità appunto che il feto riceva dalla madre il virus. Questo è il riassunto di un lavoro importante che io per vostra comodità nella tabella successiva vi faccio vedere. È uno studio che è stato fatto in 18 paesi diversi in 43 cliniche diverse. Allora vedete in alto nella colonna centrale ci sono le donne che sono affette da covid e dall'altra parte sono state paragonate donne che non sono affette da covid i numeri sono abbastanza importanti quindi lo studio è importante. Allora le infezioni che richiedono terapia antibiotica vedete triplicano in donne col covid da 3,6 a 1,1% il ricovero in terapia intensiva aumenta di 6 volte per le donne che hanno covid ovviamente parliamo di donne in gravidanza la durata media del ricovero in terapia intensiva quando c'è è di 7 giorni contro i 2 della paziente meno grave evidentemente che non ha il covid purtroppo c'è una morte materna che come voi vedete è quasi 10 volte tanto tra chi non ha covid e chi ce l'ha il parto pretermine raddoppia come rischio e quando parliamo di parti pretermine parliamo di parti in cui i bambini poi richiedono una cura un'assistenza particolare e in più quello che in realtà si modifica poco è che alla nascita il basso peso è in percentuale simile però per tutte le altre complicanze è piuttosto elevato l'aumento del rischio di queste complicanze qui voi vedete in 105 casi di covid 19 in corso di gravidanza cosa è successo vedete qui parliamo di 67 gravidanze a termine con due donne in terattiva intensiva due con ventilazione assistita 13 con parto pretermine 41 ho dovuto fare il cesareo e così via e due neonati positivi poi abbiamo avuto 10 aborti spontanei che è un'incidenza molto alta su 105 due morti neonatali e purtroppo una morte materna questo è quello che succede in questo studio che ha messo assieme tutti questi pazienti e che purtroppo ha dato origine appunto a questa attività è una ricerca che abbiamo fatto noi attraverso la società europea il nostro gruppo vedete gli autori c'era c'era un turco c'eravamo noi c'erano un finlandese e abbiamo raccolto purtroppo questa così questa triste elenco di complicanze in questi pazienti bene concludo con il discorso dei vaccini perché anche questo è un altro tema assolutamente dibattuto al di là delle ideologie io vi limito semplicemente a presentarvi dei dati su quali tutti noi abbiamo ragionato come medici e tutti voi dovete ragionare come pazienti allora anche qui ci sono sempre le solite domande si può fare il vaccino durante la stimolazione avarica o subito prima di iniziarla la risposta è che il vaccino per il covid-19 in alcuni casi può causare febbre e altri malesseri che potrebbero interferire con il corretto andamento di una stimolazione avarica quindi il concetto è non facciamo il vaccino quando partiamo per una stimolazione facciamolo prima o facciamolo eventualmente dopo poi vedremo quindi è consigliabile aspettare almeno un paio di settimane dal completamento del ciclo vaccinale prima di iniziare una stimolazione avarica per evitare che ci siano delle interazioni tra i farmaci e per garantire una maggiore protezione nel caso di un'eventuale gravidanza bisogna dovendo scegliere se iniziare un percorso di PMA o farsi vaccinare dare in assoluto la priorità al vaccino perché le poche settimane che necessitano al completamento del ciclo vaccinale non influiranno in alcun modo sull'esito del trattamento un'altra domanda sembra molto frequente è il vaccino covid influisce sulla qualità del liquido seminale? allora in base ai dati che noi abbiamo dalla letteratura non risulta che i vaccini attualmente in uso in Italia influiscono in alcun modo sulla qualità del liquido seminale quindi dire che il vaccino rende meno fertili è l'ennesima boiata che spesso si sente o si legge si può fare il vaccino durante la terapia di preparazione per un trasferimento di embrioni più conservati o subito dopo il trasferimento discorso un po' di prima il vaccino per il covid in alcuni casi siccome può dare qualche sintomo qualche fastidio o qualche lira di febbre questo potrebbe interferire con il corretto andamento della terapia di preparazione quindi non facciamo il vaccino contemporaneamente all'inizio della terapia di preparazione aspettiamo almeno un paio di settimane per per completare dal completamento del ciclo vaccinale per poter poi iniziare la stimolazione ovarica la preparazione per un trasferimento di embrioni congelati eccetera diamo la priorità al vaccino cioè se dobbiamo scegliere tra trasferire un embrione congelato e fare il vaccino facciamo il vaccino e dopo trasferiamo l'embrione congelato ci sono anche alcune perplessità sul fatto che il covid o il vaccino per il covid alteri il ciclo mestruale allora siamoci d'accordo come funziona il ciclo noi lo sappiamo il ciclo è regolato da complessi fenomeni fisiologici che partono dal cervello in particolare da una parte del cervello che è l'ipotalamo dove c'è anche l'ipofisi e di conseguenza c'è un rilascio dei vari ormoni che servono per avere il ciclo ci sono diverse variabili esterne che possono influenzare l'ipotalamo lo stress ad esempio è uno di questi quindi il covid può alterarlo il covid si può alterarlo perché colpisce uomini e donne in età sempre più giovane quindi è possibile che ci siano delle donne affette da forme sintomatiche anche severe che possono avere delle alterazioni del ciclo e il vaccino per il covid può alterare il ciclo allora ci sono alcuni casi che sono stati segnalati di alterazione del ciclo a seguito della somministrazione del vaccino però si tratta di anomalie che comunque sono temporanee che comunque si risolvono spontaneamente quindi anche questo non deve essere un timore non deve essere un tabù l'alimentazione che ruolo gioca allora teniamo presente che molte persone durante la pandemia per qualche motivo hanno sperimentato importanti variazioni di peso molto spesso però dovute al cambio delle abitudini alimentari o alla maggiore sedentarietà quindi ha senso in questo caso seguire una dieta equilibrata poi per chi è in cerca di gravidanza l'altra domanda è se le alterazioni del ciclo giocano un altro ruolo sulla fertilità certo che lo possono giocare però queste alterazioni influiscono sull'efficacia di alcuni metodi contraccettivi quindi l'unica cosa che c'è da tenere presente è di prestare attenzione qualora si usino contraccettivi cioè esattamente nella parte opposta a quella dove siamo noi per la ricerca dei figli quando rivolgisi a un medico in questi casi ha senso rivolgersi al medico quando questi disturbi ovviamente oltre a presentarsi durano anche nel tempo quindi durano più di uno due cicli si può vaccinare allora in gravidanza o quali sono i rapporti tra vaccino e gravidanza se noi andiamo a vedere la letteratura e anche quello che ci raccontano i giornali troviamo di tutto vedete qui alcuni titoli un po' sensazionalistici che ha messo non cinta niente vaccino attorno con il certificato del suo ginecologo l'ordine dei medici che dice che è assurda questa decisione covid 420 bambini prematuri nati da mamme positive dal policlinico Federico II di Napoli record in Italia oppure una percentuale bassa questo è il suo forcio una percentuale bassa di vaccinazioni tra le donne gravide causa una quello che si chiama una tempesta perfetta perché ovviamente i danni sono quelli che abbiamo appena finito di vedere quindi i medici ovviamente cercano in qualche maniera anche nei paesi anglosassoni di avvertire i pazienti di questo allora è pericoloso vaccinarsi per il covid durante la gravidanza no non lo è quindi non diciamo prima finisco la gravidanza poi mi vaccino perché è sbagliato la vaccinazione può essere fatta in qualsiasi fase della gravidanza anche durante l'allattamento se si sta programmando una gravidanza indipendentemente dal fatto che sia da pma o naturale è consigliabile fare prima il vaccino abbiamo detto prima sì è importante perché è che si vaccinino entrambi i partner per ridurre il rischio di contrarre il covid durante l'eventuale gravidanza la vaccinazione è complementare ovviamente le altre misure preventive quindi non diciamo sono vaccinate adesso faccio quello che voglio fondamentale distanziamento fondamentale l'igienizzazione delle mani fondamentale non avere quegli atteggiamenti che sembrano naturali e che si portano indietro invece l'aumento del rischio di infezione pensate per esempio a tutte quelle persone allora pensate a questo secondo voi di tutta la nostra superficie corporea qual è la parte più sporca o dove più facilmente si possono annibare non solo i virus ma anche i batteri eccetera e qual è la parte più sensibile invece del nostro corpo il nostro corpo è esposto visto che tutti noi giriamo vestiti vabbè la parte più sporca chiaramente sono i capelli i peli i particolari i capelli e la parte più sensibile del nostro corpo qual è? sono le mucose o sono in particolare alcune le congiuntive quindi le congiuntive degli occhi che sono poi in realtà come voi sapete espressione più esterna del nostro cervello bene voi direte cosa sente tutto questo? bene voi pensate a tutti quei soggetti che voi vedete in giro per le strade che si mettono gli occhiali in testa quindi si sporcano ben bene le lenti e poi se ne mettono sugli occhi creando uno spazio tra le congiuntive e la lente che ripara che fa crescere o che coltiva virus batteri eccetera poi non paghi se li torna a tirare su poi ancora per un attimo li torna a tirare giù cioè pensate all'aumento di rischio che questi individui hanno con una manovra assolutamente ingenua e inconsapevole di farsi del male da soli sono tra i vaccini disponibili qualcuno che è maggiormente raccomandato per chi è in gravidanza allora in base ai dati che noi abbiamo in questo momento qualsiasi vaccino può essere utilizzato in particolare Pfizer e Moderna per questi pazienti l'uso di questi vaccini è autorizzato non soltanto dall'Italia ma anche dalla agenzia europea da quella americana quindi esiste tutta una trafila che è inutile per cui investiamo energia adesso per cui la cittura dei controlli ci permette di dire che la statuale delle cose questi vaccini possono essere utilizzati l'altra domanda è sempre quella che se ci si vaccina in gravidanza gli anticorpi si trasmettono anche al bambino noi abbiamo diversi studi ormai che mostrano che nelle donne che si vaccinano in gravidanza gli anticorpi si trasmettono al feto fornendogli quindi una protezione importante questo studio tra l'altro pubblicato in una revista prestigiosa in Israele sul numero enorme di pensione database israeliano mi fa vedere qualche cosa che dovrebbe dirimere tutti i dubbi allora guardiamo qui in rosso le pazienti che non si sono vaccinate e in blu quelle che si sono vaccinate questi sono i giorni quindi si parte dal giorno zero in cui c'è la documentazione di un'infezione voi vedete che nei primi 14 giorni il rischio e l'incidenza di infezione è praticamente simile cioè il vaccino non ha nessun effetto nel momento in cui il vaccino comincia ad avere effetto voi vedete che non ci sono più nelle donne vaccinate nuovi casi quindi che non esiste più un'impennata rimane pari dal 28esimo giorno praticamente non ci sono più nuovi casi di donne vaccinate che si infettano continuando invece ad andare avanti la crescita delle donne che non si sono vaccinate e che contraggono l'infezione continua ad aumentare fino a 70-77 giorni quindi 10-11 settimane dall'inizio dello studio parliamo di decine di migliaia di donne che sono state esaminate e voi vedete appunto quali sono come aumenta il gap in maniera incredibile bene io mi fermo qui perché tutto quello che volevo dirvi anche se in maniera succinta penso di averlo detto il riassunto è comunque sia dovendo cercare o volendo cercare una gravidanza teniamo presente che purtroppo questo virus è un nemico del concepimento sia naturale che assistito o può diventarlo un nemico addirittura non dico imbattibile ma sicuramente che crea diverse complicazioni abbiamo alcuni strumenti tra i quali ovviamente la vaccinazione che dobbiamo assolutamente considerare come prioritari soprattutto quando si decide che la gravidanza diventa una priorità e non la si vuole più rimandare aspettando che la pandemia finisca bene mi fermo qua ed eventualmente aspetto vostre domande grazie dottore molto molto interessante soprattutto la ringrazio perché ci ha fornito dei dati a mio parere poco conosciuti per cui grazie veramente molto utile devo dire che c'erano già molte risposte alle domande quindi andiamo procediamo con le domande che lancerò sullo schermo mi sentite? pronto? ah ok perfetto ok allora procediamo allora la prima domanda è buonasera posso iniziare un trattamento tra la somministrazione di una dose e l'altra? grazie dottore lei mi sente? sì 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 benissimo sì sì aspettavo che venisse di rendere la domanda allora la risposta è sì si può mi sente? sì sì bene la risposta è sì si può iniziare però teniamo presente che dobbiamo stare lontani dal dal trattamento intesa come prelievo di ovociti o trasferimento di embrioni per una decina una quindicina di giorni da quando si fa la somministrazione del vaccino andiamo avanti ecco la seconda se si fa il vaccino ti può allattare subito dopo? sì perfetto allora la leggo io? vuole leggere lei? sì come vuole buonasera sono in decima settimana più due mi era stato consigliato di aspettare vaccinarmi durante la PMA ora il ginecologo mi consiglia di aspettare almeno il primo trimestre c'è differenza nel quando fare il vaccino dopo il primo trimestre potrebbe causare problemi durante la formazione del feto no non può creare problemi si può vaccinare quando vuole perfetto questa c'era già nella sua presentazione però la chiedono di nuovo qual è il vaccino più raccomandato? quelli che sono disponibili in Italia Pfizer Moderna vanno bene AstraZeneca ok e poi la successiva è vero che il covid lascia degli stracci neurologici si possono trasmettere al feto? eh questa è una domanda purtroppo molto attuale e purtroppo con un fondo di verità è uscito da poco uno studio non ve l'ho menzionato in cui eh ed è qui che veramente mi rattrista quando vedo che c'è ancora chi ha dei dubbi sul vaccino uno studio pubblicato sul JAMA che è una delle riviste più prestigiose io vi ricordo voglio fare un passo indietro quando noi parliamo di pubblicazioni scientifiche mh state attenti a non a non confonderli cioè un conto è pubblicare su un quotidiano o su una rivista su un magazine generico dove al massimo ehm il capo redazione controlla che non ci siano aspetti soprattutto di carattere legale che possono danneggiare l'immagine attestata pubblicare sulla rivista scientifica vuol dire questo io oggi scrivo un lavoro lo mando a questa rivista questa rivista ha un board di scienziati che decide se può aver senso pubblicarlo o no lo manda senza il mio nome a due ehm referi internazionali non del mio paese i quali fanno un'analisi critica se il risultato è che uno se sono due d'accordo per pubblicarlo viene pubblicato se non sono d'accordo non viene pubblicato se uno dice di sì e l'altro dice di no viene mandato un terzo revisore dopodiché l'articolo mi torna indietro con tutta una serie di commenti con tutta una serie di domande perché io ci impiego anche un mese per rispondere a tutte le domande mi richiedono altri dati eccetera rimando il tutto se sono soddisfatti mi viene dato l'ok e l'articolo viene pubblicato questo per dire che in realtà quando io parlo di un articolo scientifico pubblicato parlo di un sistema complicatissimo a livello scientifico per cui il filtro è molto forte quindi quando un articolo esce molto spesso racconta la verità e allora vi stavo dicendo è uscito purtroppo un articolo su una rivista prestigiosa e più la rivista prestigiosa più viene seguita più è difficile pubblicare su quella rivista in cui purtroppo un'ottantina di bambini 40 nati da madre che durante la gravidanza ha avuto il covid e 40 sempre nello stesso istituto da madre che non aveva avuto il covid a sei mesi di distanza i bambini nati da madre con il covid cominciano a presentare alcuni segni marcati di rallentamento di apprendimento di alcune in alcuni test neurologici semplici quindi è possibile purtroppo che il covid lascia degli strascichi neurologici anche in neonati è possibile è possibile sbarra probabile grazie mille per la risposta questo è molto triste ovviamente troppo sì proseguiamo scusate c'era questa prima ecco è questa la prima parte pur essendo una mania temporanea il dubbio che le variazioni sul ciclo influiscono sul delicato processo della stimolazione rimane spesso le pazienti sono donne che da mesi e mesi aspettano il trattamento PMA terrorizzate da ogni fattore esterno che influisce sull'esito del trattamento scrivo da vaccinata e provaccini ma la mancanza di studi mette in TIT che sarà TILT mette a tutti noi molta ansia e incertezza non ci deve essere né ansia né incertezza ovviamente finisce il commento ansia relativa al desito del trattamento PMA post vaccino non ci deve essere né ansia né incertezza quando alle pazienti si dice non ha avuto la rosolia bene si vaccini perché se la prendi gravidanza ha tutta serie di rischi anche sul feto nessuno dice Beo lo si fa punto e basta è un consiglio punto e basta in questo caso non è vero che non ci sono dati si accumulano ogni giorno dati in più per cui quello che dicevamo prima rimane chiunque cerchi una gravidanza e non è vaccinato fa bene se può a vaccinarsi e lo fa come dovere anche nei confronti del nascituro se una gravidanza insorge e la paziente non è vaccinata fa bene a vaccinarsi durante la gravidanza è una protezione inferiore ma è meglio che niente quindi non c'è da avere ansia o timore c'è semplicemente da prendere le dovute precauzioni per evitare che nessuno di noi si metti in autostrada con una macchina che non ha i freni nessuno di noi al giorno d'oggi con le conoscenze che abbiamo deve far correre dei rischi a se stessi e al feto grazie mille proseguiamo salve domani entro la 37 la settimana di gravidanza grazie al PMA e farò la seconda dose di vaccino passerò gli anticorpi al mio bimbo? spero di sì l'importante è che il bimbo rimanga all'interno del suo corpo il più lungo possibile ovviamente fino alla fisiologica al fisiologico inizio del travaglio di parto ok sempre la stessa persona che prosegue con l'altra domanda però però io vorrei sapere questo Giuseppe come fa a rimanere gravido devo preoccuparmi? no no se il sintomo se lei ha febbre è come se avesse una banale influenza o un ascesso per esempio a un dente l'importante ovviamente è che non si prolunghi non sia molto alta va bene perfetto Giuseppe dice che scrive per sua moglie ci conto ci conto ci spero molto l'ha scritto nella chat andiamo avanti con le domande 39 anni endometriosi profonda dubbio tra sapince e 4 non so cos'è FNH al fegato non so cos'è sono 4 bo vaccinata con terza dose nonostante i rischi di cui ha parlato relativi al covid posso permettermi di aspettare ancora per la PMA dunque c'è da calcolare se quell'idrosalpinge va rimossa e questo potrebbe essere importante e di conseguenza la PMA potrebbe essere ritardata di 1 2 3 mesi ripeto non so cosa sono gli FNH al fegato però diciamo che tecnicamente nella peggiore delle ipotesi se c'è da attendere nessuno ci vieta di prelevare gli ovociti congelarli fecondati o no far passare l'area critica e dopodiché trasferirsi soprattutto se l'endometriosi avanza ah mi scusi si si ha perfettamente ragione mi scusi Simona allora se parliamo di angiomi epatici quello che è fondamentale è discutere questo con chi la segue per gli angiomi nel senso che quello che può cambiare può essere la stimolazione dal punto di vista della PMA quindi valutare con attenzione se questi angiomi e questo fegato possono sopportare una stimolazione e accertarsi sempre con lo specialista che questi angiomi che questo fegato possa sopportare un lavoro doppio in caso appunto di gravidanza e qualora ci sia un rischio di peggioramento degli angiomi o un rischio di peggioramento dell'endometriosi si rimane il consiglio di prima si può anche fare una stimolazione prelevare gli ovociti e conservarli tra l'altro Simona specifica che le è stato segnalato di venire da lei a quanto pare quindi lo dirà direttamente va bene essendo siciliana può anche poi organizzarsi con una call conference con uno zoom se non ci sono motivi di visite specialistiche o di ecografie o cose del genere questo per comodità perfetto abbiamo un'ultima domanda approfittate a chiedere quello che volete togliere tutti i dubbi andiamo avanti c'è un'altra domanda dottore nel caso in cui si è contagiati durante la gravidanza o percorso PMA con sintomi quali medicinali sono sicuri è impossibile dirlo così dipende dal tipo di sintomi dalla loro gravità eccetera a volte a volte c'è anche bisogno di nulla semplicemente un po' di riposo e maneggiare come se fosse un'influenza dipende se c'è un interessamento polmonare o no e a questo punto però la cosa più importante è cominciare a seguire una terapia personalizzata quindi su questo non esistono schemi generici o protocolli l'importante è non appoggiarsi a terapie empiriche semplicemente perché nella migliore delle ipotesi se non ci sono alcun effetto benefico però allungano i tempi poi di guarigione perché intanto la malattia procede quindi quello che è fondamentale nel momento in cui si ha un minimo dubbio di avere un contagio rivolgici subito al medico non cercare di curarsi quando non fai da te sarebbe stato importante adesso è un po' tardi vaccinarsi per l'influenza perché questo aiuta molto il medico a fare la diagnosi è chiaro che se io ho dei sintomi simili influenzali però sono stato vaccinato nei confronti dell'influenza purtroppo è più probabile che la mia infezione sia da covid ok grazie vedo che qualcuno sta scrivendo intanto Simona la ringrazia ok c'è un'altra precisazione e domanda allo stesso tempo di Silvia che dice che è sempre la stessa persona della 10 più 2 sto prendendo ancora progesterone cortisone e clexane possono interferire con il vaccino? no però se lei non ha nessun motivo per prendere questi farmaci mi può smettere per esempio il progesterone non ha più senso prenderlo dopo la settima ottava settimana perché la placenta ha già preso piede e già produce tutto il progesterone che serve se si vuole togliere un gusto faccia un prelievo di sangue dosi il progesterone tenga presente che una gravidanza normale alla decima settimana il progesterone è 15 18 20 se lei ce l'ha 50 lei capisce che sta facendo una terapia che non solo non serve a niente ma è tra virgolette non naturale come dosaggio provi a fare questo test ok Silvia la ringrazio qualcuno sta scrivendo gli aspettiamo un attimo se ci sono altre domande un attimino intanto approfitto per dirvi che potrete rivedere il video sul nostro sito myivfanswers.it a partire da domani anche sul canale di youtube e nel link che vi ho lasciato all'inizio c'è anche il formulario per contattare il dottore direttamente c'è un'altra domanda è meglio fare la terza cosa se la può fare sì se la può fare certo finiamo prima il ciclo vaccinale cioè noi dobbiamo entrare in quest'ordine di idee un'eventuale un'eventuale infezione che si può prendere durante il trattamento o durante la gravidanza rende un evento piacevole di successo magari con una gravidanza un elemento di pericolosità quindi tutto ciò che si può fare per evitare complicanze o situazioni pericolose anche se questo ritarda di un mese o di due la ricerca di una gravidanza è da fare tenete presente che quasi tutti voi è anni che aspettate di avere un figlio un programma di concepimenti assistito vi dà delle possibilità se queste possibilità sono possibilità che vengono ritardate di un mese o due a vantaggio di riturre i rischi di aborto di complicanze eccetera fatelo 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 perfetto mi sembra anche un'ottima conclusione visto che vedo che non ci sono altre domande per il momento per cui se volete continuare a scrivere fatelo pure mi anticipo nel frattempo nel caso in cui non ce ne fossero altre e soltanto volevo ringraziarvi e ricordarvi che appunto il canale youtube sul quale potete rivedere il video è MyAviaFanswares il facebook è uguale stesso nome e poi abbiamo MyAviaFanswares underscore Italia e bene vedo per pura casualità ritorno su Q&A però non c'è nessuno e allora niente ringraziamo tantissimo il dottor Giannaroli per essere stato qui con noi qualcuno tanto scrive e ringraziano ringraziano ringraziamo anche noi ringrazio anch'io il dottore per averci fornito tutti questi dati scientifici quindi appunto con un gran valore grazie a voi per essere state qui con noi potete rivedere tutto a partire da domani e contattare il dottore grazie se avete fiducia dei medici che cercano di alleviare il vostro problema di fertilità a maggior ragione abbiate fiducia dei medici che vi propongono di ridurre i vostri rischi facendovi vaccinare e stando attenti alle complicanze che purtroppo questa infezione può dare buonasera arrivederci grazie a tutti buonasera